Papi è un genio. Papi è un genio, ok. Non è che sono troppo lontano? Sì, sei un po' lontano, amicina. Un po' più vicino di te. Tu sembri più bianchi. Mi sembro più figo. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente sono di nuovo qui con mio padre, il dottor Giuseppe Cocca, e parleremo di cibo emotivo. Sì, di cibo emotivo, perché l'abbiamo nominato veramente tantissime volte, sia io nei miei video che tu nelle tue conferenze, nei video insieme, ovunque, ma non abbiamo mai fatto un video dedicato parlando, raccontando che cos'è questo cibo emotivo. Penso che molti di voi si saranno fatti un'idea, però volevo comunque fare un video dedicato per far capire esattamente che cosa intendiamo alle persone quando parliamo di cibo emotivo. Quindi, che cos'è il cibo emotivo? Quando parliamo di cibo emotivo parliamo di una categoria di cibo che ci piace, tra virgolette, in un certo modo. Piccole premesse. Quando noi parliamo del cibo che, tra virgolette, ci piace, pensiamo che a noi piace il cibo perché è buono, perché è buono al palato. Il piacere gustativo, olfattivo, legato al cibo emotivo. In realtà la cosa è un po' diversa. Faccio un esempio. Più buona la pizza o la piadina? Più buona la pasta al forno o i tortellini? In brodo. In brodo. Allora, il punto non è che cosa è più buono. La risposta dipende. Aspetta, però scrivete nei commenti personalmente per voi se è più buona uno e l'altro degli esempi che abbiamo fatto. È ovvio. È ovvio che cosa? Non te lo dico. Ok. Se io domando se è più buona la pizza o la piadina, se sono a Napoli non c'è discussione o nel sud. Quando mi trovo in Romagna ho il 50%. No, in Romagna ho un buon 60-70% di pizza. Di pizza? Però? Però dipende dalla fascia d'età. Se la fascia d'età è sopra i 50-60% si può invertire o più piadine che pizza. Ok. Perché per loro è un cibo emotivo? Che significa? Cibo dell'infanzia, cioè quando parliamo del cibo emotivo parliamo dei cibi con cui noi siamo entrati in contatto nella nostra insanzia in un certo modo. E quando parliamo di cibo dobbiamo tenere presente che noi abbiamo un rapporto col cibo abbastanza complesso. Noi mangiamo per soddisfare il bisogno cellulare e questo viene chiamato cibo istintivo, cioè il cibo a cui siamo predisposti alla nascita. E questo si vede in quasi tutti gli animali che vivono in natura, esclusi i mammiferi, specialmente tutti gli animali fino ai serpenti. Cioè in genere come nascono loro mangiano un determinato tipo di cibo e spesso non assaggiano niente che non sia il cibo che sentono adatto a loro. E non solo, ad esempio quando le tartarughe nascono e vanno nel mare nessuno gli ha detto cosa mangiare. Però tutte le tartarughe mangiano, cacciano, cercano lo stesso tipo di cibo e questo è il cibo istintivo, il cibo a cui sono predisposti a livello istintivo ed è quello che scelgono. Mentre negli animali selvatici che vivono in natura, nei mammiferi, è come se i cuccioli venissero condizionati a mangiare il cibo che i genitori portano nella tana. Che può essere sia caccia o negli erbivori animali che vivono insieme agli adulti e incominciano a mangiare piano piano quello che mangiano gli adulti. Cioè dall'erba più tenere, foglie più tenere, fino a quando non mangiano il cibo dell'adulto. Non è cibo prettamente istintivo, così convenzionano, questo è un cibo in cui i cuccioli vengono abituati con il tempo a mangiare quello che mangiano gli adulti. Però nella maggior parte dei casi il loro cibo è un cibo istintivo, cioè cosa vuol dire? Che i mammiferi portano ai cuccioli il cibo che poi mangerebbero da grandi e il cibo che ha fatto diventare sani loro e farli star bene anche loro. Per noi umani invece si è creata una piccola frattura. Noi, cioè un primo al latte materno, per chi è fortunato a prenderlo. Poi vi è un periodo, un intermezzo che si chiama svezzamento, che è un periodo in cui i cuccioli umani vengono adattati a poter mangiare il cibo dell'adulto. Faccio un esempio, un bambino dopo l'allattamento, durante lo svezzamento non tollererebbe mai il cibo degli adulti, patatine fritte, hamburger frullati, le lasagne. Cioè per poter mangiare queste cose bisogna fare un adattamento che è lo svezzamento, ma non era questo l'argomento di oggi. La cosa interessante è un'altra, che i cibi a cui siamo stati condizionati nell'infanzia sono i cibi che per noi diventano importanti, il cibo emotivo. È il cibo della nostra infanzia che noi continueremo poi a mangiare da adulti. Io ho un'esperienza personale sul cibo emotivo molto interessante. Io come tu sai sono nato a Bolzano, per meno, sulla strada del vino. Io verso i 15-16 anni ho assaggiato per la prima volta mostarda, krauti e Wüster. Io come l'ho assaggiato è come se avessi avuto uno shock, ma cos'è questa roba? È buonissima, è celestiale, paradisiaca. Io non riuscivo, ma i Wüster possono piacere a quell'età, però a me piacevano in maniera esagerata, ma i krauti non è che piacciono più di tanto. Poi l'ho parlato in famiglia e la mamma ha detto, guarda, questo era il cibo che mangiavi normalmente quando eri bambino sotto i 5-6 anni. Allora questo qui è cibo emotivo, cioè il cibo che noi mangiavamo quando eravamo bambini. Dallo stesso discorso è più buona la pizza e più buona la piadina, dipende da dove sia nata. Nella maggior parte dei casi, perché poi quando parliamo del cibo emotivo dipende anche il modo con cui i genitori hanno proposto il cibo. Faccio un esempio, mangia mamma, mangia papà, è festa e bisogna festeggiare. Allora tutti i cibi che noi abbiamo collegati a momenti di festa, momenti di amore, momenti di condivisione, per noi sono cibo emotivo. Per esempio quando ero ragazzo, il cibo emotivo per eccellenza nell'uscita andiamoci a mangiare la pizza. Adesso andiamoci a mangiare la pizza, non so se è il cibo emotivo delle nuove generazioni, penso di no. Vabbè, dipende da dove. Dipende da dove, però noi non ci saremmo mai sognati ad andarci a mangiare un panino con la polpetta. Ecco, sicuramente non è cibo emotivo per noi, però poi ho scoperto che nel periodo c'erano i paninari, diventa cibo emotivo. Esiste anche il cibo che può essere status sociale, mangio determinate cose e così dimostro che sono in un certo modo. Certo. Allora, sapendo che esiste un cibo emotivo, noi abbiamo una responsabilità, tra virgolette, nel momento in cui svezziamo i bambini. Nel momento in cui svezziamo i bambini e li svezziamo con dei cibi che non sono salutari, noi creiamo un condizionamento emotivo per cui questi bambini cercheranno da adulti questi cibi con cui sono stati svezzati e post svezzamento. Cioè è come se ci fosse un ancoraggio molto forte. Abbiamo le fondamenta senza saperlo. Però prima in natura era così, cioè i bambini mangiavano il cibo che poi avrebbero apprezzato da grandi, ed era il cibo della loro storia, del loro paese, eccetera. Mentre adesso non si mangia più il cibo che può essere della storia del paese, eccetera, ma è un cibo industriale ed un cibo che è più pubblicitario che altro. Ok, la mia domanda è a questo punto. Visto che abbiamo capito che è importante il cibo emotivo, spesso perché è collegato a una situazione, a un'emozione. Nel mio caso, sia con te che con mamma, c'era il gelato nei giorni di festa, tipo la domenica, e quindi ci ho collegato il gelato. Quindi è importante per quanto riguarda i ricordi, se vogliamo, comunque tra le prime cose che mangiamo. Ed è importante anche a livello del microbiota. È comparabile come cosa? Perché tu vai a selezionare il microbiota quando sei piccolo? Allora, quando sei piccolo, noi con quello che è lo svezzamento, il post-svezzamento, noi selezioniamo un microbiota, che è un microbiota tra l'altro originale. Cioè è quello che influenza di più i nostri comportamenti o i nostri desideri alimentari inoltre che siamo diventati adulti. Che è importante, però dovevo fare un video dedicato su questo, anche, e sembra che nessuno ci pensa, ma il latte materno, anche nella gestazione, l'alimentazione della mamma, anche lì va già a selezionare... Non il microbiota, ma i gusti alimentari. I gusti alimentari, ok. E questo vale anche per gli animali, ad esempio. Tu di solito fai quell'esempio molto carino del pastore belga, là di dove era. Ah sì, che sembra che parlavo da un sacco di tempo. No, ogni tanto lo dici. Ok, ma il discorso, ecco, quando noi parliamo di questo cibo emotivo, non è soltanto legato al piacere, quanto è buono, quanto non è buono, come pensiamo noi. Io questa cosa, tra l'altro, l'avevo scoperta, ero ancora studente in medicina e spesso andavo a mangiare a casa di amici. Ciao Nicola, è dedicato anche a te questo. Andavo a mangiare a casa di amici, e no, di quest'amico, io studiavo un po' col fratello, penso. In ogni modo, si cenava la sera e la madre faceva delle belle scene. Avevano un pastore belga di queste dimensioni, penso il nero doveva essere, un pastore belga che era sempre tranquillo in casa, cioè affettuoso, girava, diciamo, attorno al tavolo e si mangiava con tranquillità. Ogni tanto però mettevano il pastore belga fuori al terrazzo. Dopo qualche volta io domandai al padrone di casa, dice, scusi ma perché oggi fuori? E lui dice, perché oggi, cioè, mia moglie ha messo le alici salate a tavola. Alici salate, cioè non trovavo il nesso con. Dice, no, quando ci sono le alici salate, lui impazzisce completamente e salta sul tavolo. Io mi sono domandato, cioè, non può essere maleducato a livello selettivo? Perché molte volte c'erano altri cibi che dovevano essere più appetitosi per un cane, lui era bello tranquillo. E lui mi spiega, in realtà questo cane l'abbiamo preso, che era un cucciolo, e ce l'hanno dato ed era stato svezzato da dei pescatori di Mergellina a Napoli e l'hanno svezzato con le alici salate. Ogni volta che vede, sentono le alici salate, è come se impazzisse. Certo. Questo è cibo emotivo. Come i crauti e mostarda. Come i crauti, la mostarda e i wuster. Cibo emotivo è il cibo con cui siamo entrati principalmente in contatto nella nostra infanzia. Il motivo può essere microbiota, può essere un ricordo, associazioni, non lo sappiamo, però sicuramente il nostro sistema ci fa desiderare il cibo. E' come se, come l'hai detto tu prima, il cibo post-svezzamento crea le fondamente su cosa mangiare dopo. Quindi se abbiamo avuto uno svezzamento non dei migliori, cioè siamo fregati o è possibile recuperare anche un gusto? Perché poi alcune volte semplicemente non ci piacciono certe cose, non siamo abituati a mangiarle fin da piccoli. E' un lavoro, è un lavoro perché non viene spontaneo. Molte persone devono riabituare il microbiota e si devono ricondizionare a mangiare tonate cose come una scelta di tipo di testa. Siccome so che fa male, siccome so che fa bene, siccome voglio ottenere dei risultati, io cambio delle abitudini e non mangio più una cosa e di cui sono detto dipendente. Facendo questo, nel breve e lungo periodo, noi possiamo riassestare quelli che sono i nostri gusti. Però, a me per esempio, viustel, crautia, più mostarda, per me sono attrattivi. Non li mangio, però sono attrattivi. Sì, sì, sì. Allora c'è il discorso che non ne siamo schiavi a vita, però già è questo condizionamento di base. Per questo, cioè, si può sempre tornare indietro, è una cosa che trovo interessante e, tra virgolette, educare bene quelli che sono i nostri cuccioli, i nostri figli. Perché quello che noi diamo nella loro prima infanzia sono quello che loro desiderano da grande. Esatto, infatti come dicevo nel video che ho registrato un secondo fa, io sono nata nella famiglia di fricchettoni e voi mi avete abituato, cioè, la maggior parte del mio cibo emotivo è frutta e verdura. Tipo, una cosa che mi piace tantissimo è il frutto della passione. Sì. Una cosa che mi manda proprio in ticca. Eh no, ecco, quello era il cibo della festa. Nel momento che era, non è che è soltanto buono. Non era frutta e tutti i giorni era della festa. Era cibo della festa. Essendo cibo della festa, come per altri, può essere un dolce, può essere una fetta di torta, altre cose. Sì, 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 cibo di tutti i giorni, non della festa, che però anche mi lo sento molto emotivo, anche la spremuta d'arancia. Eh, la spremuta d'arancia, però è stata la colazione che tu facevi da piccola, che era succo d'arancia con semi di girasole. Sì. E quello a te, come per altre persone, la mattina, o come è buono, latte e biscotti, latte e cacao e biscotti, cioè il cappuccino, calsiasi, no, caffè e latte. No, ma per me è buono anche quello, però è un diverso tipo di buono. Una cosa è buona che proprio è una sensazione dentro, un'altra cosa è buona, è come se fosse solo buona di papille gustative, non buona... Sì, sì, ho il cibo emotivo, un altro... Allora, il cibo emotivo funziona così. Quando lo mangi, sei proiettato nel passato, sei proiettato a tutte le volte che l'hai mangiato, le sensazioni che hai avuto, le prime volte che l'hai mangiato. È proprio una situazione, è come se ci fosse un'acqua, un trasposto. Non c'è il ricordo, tipo a te non c'è il ricordo. No, non c'è il ricordo, però c'è il piacere. Però c'è il piacere, ed è un piacere più intenso rispetto a una cosa che dici, ok, è buona. Sì, sì. Non la fa scendere giù. Va bene, volevi aggiungere qualcos'altro? No, tu volevi aggiungere qualcos'altro. No, non credo. Ci sarebbe ancora tanto da discutere. No, che questo è il motivo per cui magari può essere molto difficile quando uno si mette a dieta o fa un cambio di alimentazione di qualsiasi tipo, se c'è una restrizione. Allora, io non sono mai per togliere il cibo emotivo. Il cibo emotivo va gestito, insieme agli altri cibi che siamo istintivi e logici, bisogna trovare un giusto equilibrio per cui tutto il nostro organismo è soddisfatto. Io mangio sia quello che mi piace, sia quello che mi fa bene, quello che reputo giusto. Se non c'è una sintonia tra questi aspetti, nel lungo periodo possiamo pagarne un prezzo. E qual è il rischio nell'eliminare completamente il cibo emotivo? Che si diventa tristi. Io vorrei aggiungere anche un po' incazzati, arrabbiati. Arrabbiati e arrabbiati con le persone che lo mangiano. Con le persone che lo mangiano, sì. Io per esempio con il fumo, così non entriamo con il cibo, io quando ho smesso di fumare, io ce l'avevo con le persone che fumavano, mi davano fastidio. Adesso sono passati 30 anni, dall'82 più o meno. 82, non lo farei il calcolo. Sì, abbastanza più. Cioè una persona che può fumare anche vicino, non mi dà neanche fastidio, cioè non è più un mio problema. È stato il mio problema fin quando pensavo al fumo. Sì, vabbè, poi tu eliminando da un giorno all'altro si è andato via il microbiota. Non c'è il microbiota, il fumo, però là c'è un condizionamento, tutto quello che è legato al fumo, diventare grandi, essere in un certo modo. Perché a dire che noi abbiamo legato al fumo anche delle convinzioni, per cui al fumo sono associate delle convinzioni. Se smettiamo di fumare, anche quelle convinzioni associate al fumo possono venire a meno. Se quelle convinzioni sono essenziali, il sistema può andare in tilt. Va bene, perfetto. Noi dobbiamo andare perché nonna ci guarda molto male ed è ora di andare, non c'è neanche l'orologio. Ma hanno pochi i baffi. Ah, i baffi, ma te li faccio. Va bene. Quindi questo era il video sul cibo emotivo, spero che sia stato chiaro. Fateci sapere nei commenti se voi, magari ascoltandovi, siete resi conto di qual è il vostro cibo emotivo e se è legato a un ricordo in particolare. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Arrivederci! Grazie.